eccoci qua, nessun cambio di regia, nessun cambio di ospite perché Alessandro Regis è di nuovo qui continuiamo velocissimi questa intervista perché c'è un volto delle Iene che tutti ricordano con grande affetto e anche tu l'hai fatto, io vorrei farlo vedere, la grande Nadia Toffa e tu sui tuoi profili social hai scritto una bellissima dedica nei suoi confronti, sottolineando il fatto che tu non l'hai mai conosciuta, però ci ho avuto una affinità mentale con lei, non lo so perché mi è capitato addirittura di sognarla questa ragazza e poi mi sono sentito di dedicargli insomma quel poste, un poste bellissimo dicendo che appunto quello che sentivo realmente nei suoi confronti sì sì, lei è una donna che tutti ricordano con grande affetto, una grande guerriera perché lei ha combattuto contro un brutto male con molto coraggio poi tra l'altro, molto coraggio, lei è stata, ha lavorato con tante persone che io conosco, però no io non ho avuto mai il piacere purtroppo di conoscere la che avrei voluto di persone una grande giornalista è anche una grande Iena, lavorava molto, era molto in redazione, questo lo so per certo, purtroppo queste persone come lei si dedicavano quando si devono troppo al lavoro e se magari mangiano male e non si dedicano a fermarsi un attimino, lavorava giorno e notte quello lo so per certo sai perché lavorava tanto? Perché era un sogno che si era realizzato, lei da piccolina sognava di fare le Iene e poi c'era riuscito quindi quando fai una cosa con passione ti ci dedichi a anima e corpo è vero però vabbè non era questo il motivo no, però ecco queste sono delle cose che ho saputo ricordiamocelo questa cosa noi lavoriamo troppo, non solo Iene, perché poi tu hai fatto anche altre cose su Real Time, Cortesie per gli ospiti e su TV8 c'era una volta l'amore, raccontavi l'amore di qualche anno fa scusa? c'era una volta l'amore c'era una volta l'amore, ci sono andato con la mia compagna, abbiamo fatto questo programma, ci siamo messi un po' in gioco un programma un po' duro con Michela Ciro si chiama, se non ero la condizione Ciro che ha fatto LOL è un programma un po' particolare cosa si faceva in questo video? beh, erano, diciamo, si raccontavano le storie critiche c'era un po' di, no? le storie stavano per finire diciamo, ci siamo messi in gioco io e la mia compagna e abbiamo, ci siamo raccontati e poi alla fine questa poltrona che gira può rimanere o no con lui e la mia compagna mi ha lasciato in quel momento poi ci siamo rimessi insieme ah, le coppie che scoppiano le coppie che scoppiano ce le abbiamo anche qua vicino però mi siete rimessi insieme abbiamo fatto pure i cortesi degli ospi, ci siamo divertiti io, lei ha cucinato e ho fatto un buon mojito anche perché sei bravo, sei bravo, sei bravo nei cocktail e poi ha fatto il mojito sì scene da un matrimonio anche qui c'è scritto scemi da matrimonio ah, scemi abbiamo anche le immagini vediamo se Lorenzo sì, è lui il conduttore della prima edizione che è andata su TV8 ex Iena mici DJ speaker di Radio 105 di tutto il programma Tutto Esaurito mio amico che ha fatto questo programma e io ho aiutato loro a cercare tanti matrimoni anche con Salvatore Barbato che è anche un altro regista che ha fatto questo e mi sono messo in moto per loro purtroppo cavalcavamo l'onda del covid nel pieno e quindi trovare comunque matrimoni quant'altri con tutte le problematiche che abbiamo avuto non è stato facile dovevo fare quattro episodi ne ho fatti due ma io non ho capito che facevate ma andavate e no organizzavano i matrimoni lo scherzo e uno dei due era complice quindi il matrimonio andava in frantumi andava in frantumi però dopo poveri sposi ma io quindi adesso ad oggi se dovessi incontrarti io saprei già che sarebbe uno scherzo se sei famosa può darsi allora ancora no mannaggia però tra un po' magari tra un po' di tempo quando succederà se succederà avrò paura di che mai dire mai mai dire mai lui sempre lì che si aggira esatto e infatti proprio di scherzi parliamo perché tu ci hai mandato anche una tua foto mentre eri a scherzi a parte sì questo è l'ultimo che ho fatto e è quello che appunto hai detto tu Sabina Salerno in quest'anno e cosa è successo tu lo sai questo scherzo questo era l'unico scherzo in diretta la penultima puntata e praticamente Sabina è stata invitata per un'intervista per un podcast e invece noi gli abbiamo fatto credere che questa hanno sbagliato lo cash e poi l'abbiamo portata vabbè è successo un casino ragazzi ce lo dobbiamo andare a ripescare quello che vedete in tv non è niente non è niente io sono stato manettato con Sabina a mezzo quasi un'ora in auto e lei che mi voleva strappare il polso è incassata come una bella daglia hanno tagliato tutto ma è arrabbiare i rif tra la scherzo a parte iene per me veramente ma come ve li studiare ti devo dire che gli autori sono sempre loro che girano quindi la linea è quella la mente diabolica bisogna stare attenti esattamente tornate perché c'è un capitolo ascolti le cose torna scherzi a parte guarda io su scherzi a parte non posso dire se torna sì penso proprio di sì ma per le iene tu torni alle iene non lo so perché io guardate bene questo lavoro che non mi guardate bene perché lui farà gli scherzi alle iene quindi mi raccomando quando vedrete questo volto ma è già successo purtroppo è già successo che in qualche scherzo si hanno sgamato loro un pochino qualcuno dice ma tu non sei quello che ha fatto scherzi a Paolo Di Canio ma tu non sei magari qualche padre o familiare mi guardava poi chiaramente non te possono chiamare sempre se no è sgamato già ti abbiamo sgamato noi quindi allora poi passiamo un altro premio che hai vinto nel 2020 Vincenzo Crociti International come attore emergente abbiamo anche lì qua delle immagini cos'è questo premio? questo è il premio dedicato all'attore Vincenzo Crociti ah e quindi il ideatore il direttore artistico di questo premio si chiama Francesco Fiumarella e mi ha voluto premiare proprio per queste cose che ho fatto io e gli sono piaciuto mi ha chiamato e mi ha premiato è un premio che comunque hanno ricevuto tanti attori importanti comunque beh bellissimo non solo quello perché tu hai fatto anche e vorrei tanto non ce l'abbiamo vero Manu il brano cambia il disco non abbiamo non abbiamo il brano ma abbiamo un'immagine perché sarebbe da ballare abbiamo un'immagine di questo di questo di cambia il disco quindi è debuttato anche come cantante e produttore cantante diciamo che facendola ho detto vabbè ne farò parte anche io eccola eccola qui sì 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 il brano non ce l'abbiamo ma la possiamo andare ad ascoltare dove? su youtube su spotify cambia il disco cambia il disco l'ho fatto nel 2021 l'altro anno insieme a Angelica Massera che striscia la notizia e Lele Sarallo insomma speaker di Radio Roma e youtuber insomma per essere la mia prima esperienza diciamo che alla fine qualcosa di carina l'ho tirata fuori adesso sto facendo sto collaborando con i ragazzi della Decro Pro Records e abbiamo anche queste immagini per fare una nuova canzone non ci manca niente c'è manca niente e com'è che è? Tecro Pro Records un nome difficilissimo sì e con loro? con loro adesso stiamo con loro adesso stiamo vedendo di fare altri brani con un nuovo videoclip probabilmente targato il S.A. 2023 e vediamo perché loro sono bravissimi hanno già prodotto brani per Albano e Jasmine Carisi e Aida Iespica e tanti altri sì anche quindi lancerai il tormentone 2020 ci proviamo ci proviamo poi dovrai tornare per raccontare per ballare con noi quella volta lì ce lo apprendiamo noi proviamo noi proviamo c'è già il titolo no ancora ci stanno ci stiamo lavorando ma è una cosa è abbastanza imminente bene bene i nostri telespettatori almeno lo sanno noi lo sappiamo così dobbiamo aspettarci eh certo ma a parte altri scherzi vedremo questa è una cosa mia che creo io a questi ragazzi tanti tanti beh bene altri scherzi che noi gli possiamo chiedere che sono le vittime perché devono ancora andare in onda non possiamo dire niente secondo me dobbiamo stare attenti anche io e te salvatore prossimamente prossimamente stiamo attenti anche qua su questi schermi Alessandro noi ti ringraziamo per essere stato grazie a voi ragazzi per il tuo tempo per le tue corse soprattutto sì sì vabbè perché qui si corre sempre e noi ci non c'era traffico e noi ci verremo a tatuare vai vediamo da te ti faccio un bel tatuaggio qua eh sotto l'occhio sotto l'occhio come per i rapper ti senti un po' rapper salvatore no di no però io se no uno me ne vorrei fare un altro va bene Alessandro alla prossima grazie grazie mille grazie a voi noi stai lì fermo lì perché noi adesso per chiamare l'ospite successivo mandiamo un video e facciamo lo switch facciamo lo switch dall'uno all'altro l'ho già pronto col microfonato tu sei pronto per ritornare a tatuare e intanto noi guardiamo il video guardiamo al video e questi occhi fanno male sai ho fatto al suo corso le immagini e certe storie non le direi mai perché le ingesserai e saranno stretti porto il tuo nome sulla pelle che mi brucia sempre quando tocco il mare se passo per la tua figlia ora non sei niente e adesso che fatica ad ogni passo che faccio metto un disco di mio padre un po' mi rilasso e non so il mio addormento sopra questi liti manco se ci fossi tu e cazzo sempre qualcosa che mi manca sarà il mio stato saranno le tue l'occhi è un film che rivedo sempre non ci stacco gli occhi manco per un attimo che oggi resto da me da sole e punge lascio i segni come te ho reso vero come stai che tanto finisce come stai no ci siamo diamo il benvenuto a Ruggine ciao ciao Riccardo Franco è un'arte ruggine anche tu nasci a Roma nelle 2000 in 2000 una vergogna una vergogna 22 anni noi siamo a sentirci come dire un po' che pasta però sei già un artista sei già maggiorenne maggiorenne lo fa tutti i due del 2000 già sono maggiorenne qua il tempo scorre troppo velocemente troppo velocemente ma per te scorre però velocemente con la tua musica perché tu hai iniziato a fare musica fino a quando eri piccolo sì diciamo che non ti saprei dire quando ho iniziato a fare musica perché è sempre stata una cosa che è stata parte di me ho vissuto dentro diciamo perché comunque mio padre ha sempre suonato cantava quindi ma è bellissima questa cosa perché devi sapere Riccardo no anche noi ogni domenica intervistiamo questi voi artisti no e la maggior parte ci dicono che è una cosa che nasce proprio dalla famiglia cioè l'amore e la passione per la musica nasce perché i genitori erano musicisti quasi tutti i figli d'arte e quindi al tempo stesso ad esempio i tuoi genitori quando poi il tuo papà soprattutto che era lui l'artista il musicista quando poi tu hai inseguito questa carriera come l'ha presa? sicuramente è molto fiero di me diciamo ci confrontiamo pure un sacco sulle cose cioè per me lui il suo parere è molto importante diciamo bello quindi tu c'hai un plus perché c'hai la persona il papà che consiglia sì sì a casa e poi hai iniziato appunto prima con il rap poi con il cantautorato romano esempio dimmi un nome che ti piace di un cantautore romano che hai sempre seguito di adesso? di come vuoi di adesso di tempo indietro sicuramente Car Brave e Franco 126 mi hanno ispirato un po' due numeri uno per me è Franco 126 numero uno anche Car Brave che poi ricordiamo loro erano insieme no? sono nati come gruppo loro due poi a un certo punto hanno un po' due strade separati poi hanno appunto oltre a separarsi vediamo come Franco faccia diciamo un genere molto diverso da Carle che è più pop no? Franco invece è rimasto un po' più sì hanno preso due strade differenti diciamo io forse sono più nell'identità un po' di Franco di Franco 126 della gang però cioè dipende pure da come approcci poi sono cose che vengono dopo sono delle situazioni che si creano uno poi fa delle scelte certo e tant'è che nel 2019 tu restando proprio su questo filone hai creato un duo sì io ho lavorato con un ragazzo prima diciamo lui curava la parte delle produzioni e io cantavo e poi abbiamo deciso di insomma cantava anche lui lui curava tutto l'aspetto produttivo e insomma cantavamo insieme eravamo un duo sì come vi chiamavate? no in realtà non avevamo un nome insieme quindi io ero avevo l'altro Veracruz e 33 Ars eravamo insomma ma com'è che è? me lo pronunciamolo perché è Verac? Veracruz Veracruz per 33? Ars Ars un nome complicatissimo noi siamo vecchi vorrei leggere non è normale non è normale boomer in questo no ok quindi appunto era un nome complicatissimo ma dove è nato questo nome? allora il nome Veracruz è nato molto in realtà cercavo un nome ai tempi ero piccolo ero piccolo e diciamo cercavo un nome che mi piaceva come suonava fondamentalmente ho scelto Veracruz che è una città che sta in Messico mi intrigava questo fatto una cosa etnica così mi intrigava e avevamo scelto quello insomma e con questi due hai fatto l'EP parzialmente nuvoloso com'è la tua vita? parzialmente nuvolosa o soleggiate? no no parzialmente nuvolosa nuvolosa sicuramente no ma proprio deciso sei stato super deciso parzialmente nuvolosa sì se no non facevo musica probabilmente perché sai hai come in tutte le persone un po' di oscurità e un po' di luce? no non è un fatto di oscurità è proprio un fatto cioè nel senso io approccio proprio questo modo di approcciare l'esistenza sono sempre un po' non lo so nuvoloso ecco il motivo per il quale fai musica hai detto se fosse stato troppo sole troppo soleggiante tendenza che io faccio sempre questa citazione di Tenko che lui dice io scrivo quando sto male quando vivo un malessere se sto bene faccio altro esco con gli amici non mi metto a scrivere ecco questa e quindi anche tu nella tua vita infatti scrivo un botto vabbè è bello vabbè però ci sarà anche un momento un momento bello certo ma sì assolutamente però noi abbiamo cominciato con la dottoressa e abbiamo parlare di depressione vabbè non è questo il caso non è questo il caso ecco abbiamo parlato abbiamo parlato di quello questo è come si chiama il filo che si è che torna no il timbro un po' dell'artista un po' cupo parzialmente nuvoloso per rimanere e per far uscire le proprie idee quindi che fine hai fatto fare questa altra persona no diremmo abbiamo abbiamo preso due strade diverse perché avevamo comunque un'idea di musica esatto diversa insomma io avevo un'altra idea lui aveva la sua insomma abbiamo deciso di prendere due strade diverse infatti io poi ho iniziato carriera diciamo solista prendendo comunque un altro filone rispetto a quello che facevamo insieme che era molto più sono ridà più magari trap, rap adesso magari mi sposto anche un po' più sul pop più cantato poi dipende io un po' tutto infatti poi hai fatto quando ho iniziato a fare la carriera solista hai scritto due singoli il primo è Crepe che dovremmo avere anche la cover la copertina di questo singolo eccolo qua e poi Tra le mani sì raccontaci un po' questi due singoli questi in realtà sono proprio due esperimenti cioè quello era un periodo un po' che io comunque venivo da una realtà e quella realtà era non dico una comfort zone però era la mia ero entrato in un mondo e sapevo sempre quello che dovevo fare poi mi sono trovato da solo e quindi ho iniziato proprio a tirare fuori cose che magari non avrei mai fatto e quindi Crepe tra le mani sono proprio esperimenti sono cose cioè infatti sono anche molto diverse fra di loro e anche insomma l'ultimo singolo che ho fatto uscire stare male è proprio stato approcciato in maniera completamente diversa da tutto quello che ho fatto precedentemente un pezzo che ho fatto uscire proprio di pancia completamente di pancia e questo qua di tra le mani nasce con sempre la solista ma con il tuo nuovo nome perché abbandoniamo questi nomi complicati e prendiamo un nome un po' più alla borda di tutti ruggine sì semplicemente stavo non lo so mi sono trovato a ragionare che volevo trovare un nome che fosse una roba evocativa tangibile allora ho pensato mi è sempre piaciuto ruggine ti fa subito pensare a qualcosa e questa cosa mi intrigava volevo prendere un nome di questo tipo insomma poi la musica che faccio l'ultimo pezzo è molto sognante molto etereo magari no invece ruggine è così concreto come nome quindi mi piaceva anche questo contrasto tra quello che poi faccio e poi il mio nome ecco beh bellissimo noi abbiamo la copertina di stare male che è appunto l'ultimo tuo singolo l'ultimo debutto vediamo se ce l'abbiamo ecco qui dove eri qua a fare questa foto bellissima tra l'altro ero vicino casa del mio fotografo anche non che manager mio amico tra l'altro e stavamo vicino a Tuscolana a Roma comunque qui vicino casa mia qui vicino e noi chiediamo al nostro regista che ci fa accenni se abbiamo se abbiamo il video il video il brano da poter mandare ce l'abbiamo ce l'abbiamo quindi noi diciamo che lo mandiamo e poi lo commentiamo con ruggine insieme